Che cos'è la polimialgia reumatica e che cos'è l'arterite di Orton? Abbiamo approfondito l'argomento con la dottoressa Ceribelli di Milano che ha tenuto una relazione su questo argomento in occasione delle giornate reumatologiche del sacco organizzate dal professor Sarsi Puttini. Allora dottoressa Ceribelli, che cos'è la polimialgia reumatica? È una malattia sistemica, infiammatoria, che caratterizza soggetti di età superiore ai 50 anni che si caratterizza in generalmente per un dolore a carico del cingolo scapolare e del cingolo pelvico. Gli esami del sangue sono alterati, in genere veste PCR e indici di infiammazione sono molto elevati e il paziente è molto sofferente, ha un'infiammazione molto grave che lo debilita, causa perdita di peso e così via. Per cui si rivolge al reumatologo spesso per impostare la terapia. Che cos'è invece l'arterite di Orton? L'arterite di Orton è invece una malattia rara, in realtà una vasculite dei grossi vasi che può colpire la orta o i grossi vasi che derivano dalla orta, per esempio le arterie temporali, le carotidi. Si caratterizza per un quadro di cefalea, anche in questo caso la febbre, un aumento degli indici di flogosi e può associarsi alla polimia geromatica. Circa il 15-25% dei casi potrebbe avere entrambe le condizioni. Qual è invece la terapia di queste due forme di malattia? La terapia di primo livello sempre è il cortisone, un cortisone ad alto dosaggio per bocca o addirittura anche in dovena che però deve essere scalato in tempi ragionevoli secondo certi criteri. Da un lato per evitare delle riacutizzazioni di malattia si è scalato troppo velocemente, dall'altro lato per evitare gli effetti collaterali del cortisone stesso. E qui entrano in gioco terapie di secondo livello. Quali? Nel caso della polimia geromatica e dell'arterite di Orton un secondo livello terapeutico può essere rappresentato dagli immunosuppressori quali il metotrexate. Solo nel caso dell'arterite di Orton, l'arterite temporale invece si parla di terapia biologica. Bene, e la terapia biologica con quali farmaci può essere effettuata? L'unico attualmente approvato è un farmaco che si chiama Tocilizumab che blocca una molecola, una citochina, si chiama Interleukina 6 e si è dimostrato molto efficace proprio nel controllo della malattia e nel risparmio del cortisone. Altri farmaci sempre diretti contro Interleukina 6 sono in fase di studio, quindi vedremo i risultati nei prossimi anni. Ci sono novità nel trattamento di queste due condizioni dal punto di vista della farmacologia? Sì, oltre all'Interleukina 6 un altro target studiato può essere rappresentato per esempio dall'anti-CTLA4 oppure anti-interleukina 12, anti-interleukina 23 con dei biologici che noi normalmente stiamo già utilizzando per altre malattie aromatiche ma si sta studiando la loro applicazione anche nella polimialgia o nell'arterite di Orton. Grazie a tutti.